Non ci saranno aumenti di tasse e non ci sarà alcun commissariamento o tagli ai servizi della sanità in Abruzzo. E' quanto comunica l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì all'esito del tavolo di monitoraggio sulla spesa sanitaria che si è riunito questa mattina a Roma. Il tavolo, istituito presso i Ministeri della Sanità e dell'Economia e delle Finanze, ha dato parere favorevole al disegno di legge approvato nei giorni scorsi dal Consiglio regionale per la copertura del disavanzo della sanità regionale. Sapevamo di aver fatto le scelte giuste per il bene della nostra regione, dichiara l'assessore Verì. Attraverso l'approvazione, da parte del tavolo di monitoraggio, delle coperture finanziarie individuate, viene garantito l'equilibrio economico-finanziario dei conti. Il prossimo passaggio, spiega la titolare della delega alla sanità, è l'individuazione dei piani di razionalizzazione delle spese delle quattro ASL. Inevitabile, da parte dell'assessore, un richiamo alle polemiche politiche. Gli strilli delle forze di opposizione, afferma la Verì, sono parsi quantomeno inopportuni se si pensa che in passato le ASL abruzzesi hanno avuto disavanzi. Decine di milioni all'Aquila, Chieti, Teramo, che la Giunta ha sempre provveduto a ripianare. I piani di razionalizzazione della ASL dovranno includere un'analisi dettagliata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, oltre a prevedere proposte di miglioramento nell'allocazione delle risorse. I piani, infine, dovranno anche individuare misure per incrementare l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, ospedalieri, territoriali e sociosanitari.